Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Lente di Ingrandimento. La Regione Campania e Napoli in prima linea registrano numeri da record per quanto riguarda l'afflusso turistico. Turisti cui bisognerebbe garantire dei servizi efficienti affinché questo trend positivo permanga. Nota ad Olente i trasporti nella nostra Regione. Il turismo è fonte di crescita e sviluppo per i nostri territori, per cui bisogna assolutamente incentivarlo. Buonasera all'assessore Edoardo Cosenza del Comune di Napoli, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli. Buonasera. Buonasera. La Presidente dell'EA, Valenti Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. Buonasera. Buonasera. E buonasera. Claudia, sempre pronta a far interagire i nostri telespettatori con lo studio. Buonasera. Buonasera. Vi ricordo che durante il corso della puntata potete contattarci tramite il numero WhatsApp di Televomero 339 4628 565 o tramite l'indirizzo email redazionechiocciolatelevomero.it. Ci trovate anche sui canali social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e potete visitare il nostro sito www.televomero.it. Aspettiamo le vostre domande. Allora entriamo naturalmente nel vivo della trasmissione e insieme guardiamo la copertina realizzata per noi da Laura Vigiano, Radio 24. Ritardi cronici, corse soppresse, treni e autobus insicuri e poco frequenti, risorse inadeguate a garantire un servizio pubblico di trasporto dignitoso in Campania e a Napoli. Una situazione decadente e non migliorata dopo tutto quello che si è detto e pianificato durante la pandemia che spinge verso l'uso dell'auto privata piuttosto che dei mezzi pubblici. Una fotografia che emerge anche dal rapporto pendolare a 2023 di Lega Ambiente che fa il punto sul trasporto su ferro nel nostro paese. Nel 2021 in Campania hanno viaggiato 245 treni, il 72% circolava da più di 15 anni. Le metropolitane a Napoli, nonostante i tempi lunghi di attesa, ormai sostituiscono gli autobus che in alcune zone, soprattutto periferiche, sembrano un miraggio. Le attese interminabili alle banchine e alle pensiline, spesso causate da partenze cancellate, sono una realtà purtroppo quotidiana. Un disagio enorme per chiunque debba spostarsi che diventa più pesante e frustrante per i pendolari. Un problema che si ripercuote comunque su tutto il tessuto economico-sociale della città e della regione. Assessore, nella copertina curata da Laura Vigiano, Radio 24, al gruppo Sole 24 Ore, si evidenza anche il fatto della mancanza di fondi necessari affinché si svolti concretamente e si renda efficiente il servizio di trasporto locale. Sì, diciamo che è parzialmente vero. In realtà le risorse per le infrastrutture noi le abbiamo. Vedo un pessimismo eccessivo in questo servizio perché, per esempio, la linea 1 abbiamo introdotto il nuovo treno, a breve introduciamo il secondo nuovo treno, ne abbiamo già, quindi in realtà negli ultimi mesi c'è stato un miglioramento certamente. Per quanto riguarda i bus stiamo finalmente assumendo perché tutti gli autisti ai bus sono interinali. Abbiamo assunto i primi 25, ma in realtà è finito il concorso, abbiamo una lista di oltre 500 vincitori, ne assumeremo 275 molto rapidamente, quindi anche sui bus stiamo lavorando, ma soprattutto stiamo lavorando sulla metropolitana linea 1 e linea 6. Certo, di questo ne parleremo poi nel corso della nostra. Quindi lei dice che tutto sommato i fondi ci sono, c'è bisogno soltanto di aspettare del tempo affinché poi il servizio diventi efficiente? Allora, anche i fondi sono un problema, però diciamo sono anche le regole della burocrazia italiana che una volta che uno ha i fondi, una volta che ha anche i treni, per metterli in circuito ci deve mettere tanti mesi, non è solo una questione di fondi, ma è anche una questione di burocrazia, di regole. Presidente Umberto De Gagore, lei chiaramente è il presidente dell'ente autonomo Volturno, la circunmesuliana è veramente bistrattata, criticata per il servizio poco efficiente che offre. Con i fondi a disposizione si arriverà a migliorare questo servizio? La rete copre veramente tratti molto lunghi. Io volevo fare un ragionamento di carattere generale sui fondi perché concordo parzialmente con quello che ha detto il professore Cosenza, in che senso? Nel senso che noi abbiamo grandi risorse per gli investimenti, non c'è dubbio. Anzi, oggi abbiamo il problema di gestire bene e rapidamente gli investimenti, parliamo di miliardi. Quindi su questo concordo, ma c'è un tema invece sui fondi destinati all'esercizio. Cioè, noi abbiamo, faccio un esempio, la linea 7, la nuova linea che collegherà Soccavo a Parco San Paolo, all'università, che praticamente è pronta, ma quando va in vigore una nuova linea servono dei soldi per attivarla. Noi abbiamo avuto miliardi per fare la nuova linea e ora non abbiamo da nessuno un milione di euro in più all'anno per aprire la nuova linea. Questo è un tema fondamentale che io vorrei che chi ci ascolta lo capisse bene, perché sento spesso parlare di federalismo fiscale, ma il federalismo fiscale è nato nel mondo dei trasporti e dei servizi in generale da 15 anni. Nel senso che il rapporto di Lega Ambiente, pendolaria, che ha citato la collega, dice tante cose interessanti. Per esempio dice che alle ferrovie regionali, negli ultimi 15 anni, sono stati dati 20% in meno di risorse dallo Stato. Cioè l'EAV, per esempio, prende dallo Stato oggi il 20% in meno in termini nominali di quello che prendeva 15 anni fa. Cioè in termini reali, cioè al netto di l'inflazione, noi prendiamo oggi la metà di quello che prendevamo 15 anni fa. Allora lei mi dirà, ma questo sarà vero anche per Milano, non solo per Napoli. Certo, il problema qual è? Che a Milano la Regione e il Comune hanno messo risorse importantissime per supplire a quello che tagliava lo Stato centrale. E la Regione Campania? La Regione Campania e il Comune di Napoli, il Comune è in prese stesso. La Regione è appena uscita dal commissariamento della Sanità ed ha un bilancio che non è certo quello della Regione Lombardia. Quindi che cosa è accaduto? Che a Milano i fondi sono rimasti inalterati, perché quello che toglieva lo Stato lo mettevano gli enti locali. Non in Campania. Da Roma in giù questo non è avvenuto. Che cosa è avvenuto invece? Che lo Stato tagliava e nessuno manteneva più nulla. Non è mica un caso che l'Atac è inconcordato, che l'ANM è inconcordato, che il CTP è fallito, che stava per fallire, che in Sicilia non c'è più il trasporto pubblico locale. Non è un caso. Gli interventi economici ci sono stati, adesso i cittadini vorrebbero vedere chiaramente questo o un servizio più efficiente. Sì, però questo lo dobbiamo chiarire bene, perché è una battaglia politica che va fatta, è una battaglia civica, non politica. Assolutamente hai ragione. Io intendevo, se no viene frainteso il mio intervento, e sbaglio io, diciamo ci sono i fondi per i treni, ci sono i fondi per la gestione, per il personale, per gli allungamenti di orario. Che chiaramente significherebbe assumere più personale. Quindi diciamo sono stati fatti investimenti, come dire, una tantum, ma il fondo sul trasporto pubblico locale è addirittura in diminuzione. Quindi ci vorrebbe un intervento del governo, che chiaramente poi demanda alle regioni, e le regioni poi lo distribuiscono ai territori. Esatto, costante anno per anno. Quindi, con i fondi europei, si è riusciti ad avere fondi per le infrastrutture, per i nuovi treni, ma non ci sono i fondi per l'esercizio ordinario. Cioè tutti chiedono a me l'estensione degli orari, ma l'estensione degli orari costa, e noi stiamo lavorando con budget limitato, e addirittura in decrescente. Quindi il problema dei fondi c'è e esiste. Claudia ha raccolto le testimonianze di alcuni viaggiatori della funicolare. La funicolare dichiaria, sappiamo che è chiusa da troppi mesi, i lavori ancora non sono iniziati, e questo chiaramente provoca la legittima protesta, dico io, dei pendolari. Ascoltiamo questa intervista. Nella funicolare di Chiaia ci sta creando grossi problemi. Diciamo, io avrei pensato di fare queste, perlomeno sempre miste, per rendere possibile più trasporti. Sono rimasta molto stupita dal fatto che non hanno integrato qui con questa corsa la fermata al corso Vittoria Emanuele e continuano ad andare avanti le dirette quando abbiamo l'altra funicolare che non funziona e fino al 2024 non ne avremo più notizie di quest'altra funicolare. Quindi devono incrementare le corse ed eliminare completamente le corse dirette, ma lasciare quelle viste. Penso che funzionino discretamente. Poi finiscono alle 11 di sera, quindi sarebbe opportuno che magari l'orario fosse prolungato oltre quell'orario. Non ne trovo di criticità. Trovo un ottimo servizio pulito e regolare. Niente di più. Fare il pendolare a Napoli è impossibile. Chiudere anche questa ulteriore funicolare a questo punto qua Manfredi ci mette sulle spalle e ci porta per la Benamantina. Allora, noi abbiamo ascoltato, abbiamo visto che in realtà i cittadini quindi sono abbastanza anche consapevoli delle difficoltà e danno delle proposte. ottimizzare il servizio esistente secondo me potrebbe essere possibile. Bisognerebbe puntare su questo. Poi giustamente c'era chi riconosce il servizio efficiente delle funicolari perché purtroppo la sosta della funicolare di Chiara creava problemi, ma le funicolari poi funzionano in città. Il cittadino suggerire di andare sulle spalle dei magistris visto che la scadenza dei vent'anni della funicolare di Chiara era settembre 2017 poi hanno avuto una proroga nel 2018 non hanno fatto niente, nel 2019 non hanno fatto niente, nel 2020 non hanno fatto niente, nel 2021 non hanno fatto niente quindi diciamo è una polpetta avvelenata quindi io suggerirei di andare da dei magistris. Allora, c'è un'ottimizzazione tra corse miste e dirette perché poiché gran parte del traffico è tra la base e il vomero è ovvio che ci vogliono delle corse dirette perché altrimenti si allungano i tempi però si può ottimizzare certamente questo è un suggerimento che farò studiare la gara per la realizzazione dei lavori dopo che ci siamo procurati fondi con la Banca Europea di Investimenti quindi è un mutuo sostanzialmente che abbiamo dovuto fare per fare i lavori a Chiaia è partita, abbiamo dato una piccola proroga dal 23 marzo al 4 aprile perché il tema è di far... Perché c'è stata quest'ultimizzazione? Ma il tema grande in questo periodo è far partecipare le imprese alle gare perché diciamo con l'incertezza dei prezzi e gli aumenti dei prezzi che ci sono stati in seguito alla guerra in parte è una speculazione perché in parte è vera in parte è speculazione ma è una realtà l'importante è far partecipare alla gara perché altrimenti noi perdiamo ancora più tempo quindi ci sono stati più di una società che ha fatto le visite tecniche quindi noi aspichiamo che partecipano ci siamo fatti certificare che il progetto era valido e che i prezzi erano giusti perché poi bisogna stare attenti a non mettere neanche prezzi troppo elevati il 4 aprile sapremo se ci sono partecipanti spero proprio di sì alla gara poi come cittadini informati sanno noi puntiamo a marzo 2024 per la chiusura quindi un altro anno di sofferenza però c'è il problema della funicolare di Montesanto voi cosa state facendo per evitare di fare quello che ha fatto De Magistris evitando la tempesta perfetta della chiusura contemporanea la scadenza del 2024 stiamo ancora vedendo come reperire fondi perché voi ci rilacciamo di prima per questi lavori straordinari sempre noi puntiamo alla BEI in modo che anticipiamo i fondi anticipiamo la gara e chiudiamo giusto quando iniziano i lavori perché poi in qualunque funicolare d'Italia dopo 20 anni bisogna fare questa lavorazione questa è la garanzia del viaggiatore stesso assolutamente perché ne va di mezzo la sua sicurezza quindi diciamo che noi stiamo anticipando il problema cosa che invece non è stato fatto dai nostri predecessori poi si trova la funicolare chiusa e si dice la colpa è di Manfredi o di Cosenza falsissimo diciamo perché per 5 anni chi usava la funicolare di Chia sa benissimo che alcune porte non si aprivano più era diventata addirittura pericolosa perché se la scadenza è 20 anni e a 25 anni ancora non è fatto niente è veramente il problema è molto grande cioè lavorate affinché non venga chiusa anche quella di Montesanto in contemporanea perché sarebbe veramente il caos si dovrà chiudere questo chiariamolo bene però non in contemporanea non in contemporanea assolutamente bisogna evitare ciò ma noi abbiamo evitato un'altra cosa che è andata sotto silenzio che è la chiusura delle stazioni della metropolitana perché la stazione metropolitana collinare sono passate 30 anni e a 30 anni bisogna cambiare tutte le scale mobili e gli ascensori il 16 dicembre poi parleremo anche della metropolitana non ci anticipi quindi noi abbiamo evitato la chiusura per lo stesso meccanismo diciamo a 30 anni bisognava chiuderla noi siamo riusciti a non farla chiudere ci sono le imprese che devono fare i lavori e quindi riusciremo incrociando le dita a non farle chiudere o farle chiudere proprio quel minimo perché forse riusciamo a far fare i lavori senza chiuderla tutte le stazioni collinari sono arrivati a 30 anni di vita sarebbe veramente un problema adesso ascoltiamo quest'altro contributo che riguarda l'EAV Presidente quindi sia bene attento a cosa gli chiedono i viaggiatori dell'EAV è più che altro quello che sai quando parti ma non sai quando ritorni perché le coincidenze a volte soprattutto la comana la circonflegrea le attese sono lunghissime ti fermi a pianura e puoi rimanere anche 20 minuti senza che riparti l'assurdo è che fa ritardo alla partenza al capolinea è lì che non capisco come mai se c'è il capostazione il treno sta lì perché parti ritardo questa è la cosa che a me non riesco a capire pressioni ritardi sì però recentemente non fa proprio schifo ho sentito parlare di alcuni disagi nella zona diciamo che porta verso Sorrento negli ultimi tempi ho letto però a me non è capitato sono sporchi che non so hanno orari troppo distanti l'uno dall'altro e ci sono comunque passeggeri che non rispettano gli altri innanzitutto le regole quindi semplicemente farsi il biglietto eccetera è una condizione un po' di timore di disagio soprattutto se vai da sola c'è ansia che non lo so qualcuno ti sia vicini è successo qualcosa quindi sei sempre un po' sul chi va là sai la gente è un po' strana trovi però però sì allora tutto sommato Presidente è andata abbastanza bene se l'è cavata perché considerando quello che si dice che addirittura i turisti verrebbero per fare un tour nella circonvese per vivere questa esperienza negativa insomma mi pare che le è andato bene prima di rispondere però ai nostri telespettatori intervistati da Claudia diciamo la rete infrastrutturale dell'EAV cosa comprende per spiegarlo a chi ci ascolta da casa perché c'è una volta magari si parla senza sapere l'EAV comprende le linee vesuviane verso Baiano Sarno Scafati Sorrento e quindi poi tutta la fascia che porta a Sorrento quindi tutto l'Inter napoletano San Giorgio a Cremano Ercolano Portici eccetera parliamo della periferia più popolosa d'Europa e anche tra le più complicate diciamo così mi riaggancio all'ultima osservazione della utente che diceva sono personaggi un po' strani che circolano beh sono quelli che circolano per le strade a San Giorgio a Cremano che è una vidente cittadina che magari ha i suoi problemi a Torre Annunziata come a Barra Ponticelli non è che siano diciamo diversi i problemi che si trovano sui treni e nelle stazioni dell'Eva rispetto a quelli che si trovano fuori quindi le linee vesuviane le linee Flerree Cumana Circonflerea le linee suburbane e cioè Benevento Piedimonte Matese la metropolitana linea Arcobaleno che da Piscino la Scampia con l'interscambio con la linea 1 porta ad Aversa la gomma in buona parte della città metropolitana soccorrendo rischi approcci da campi ferrei eccetera la funivia del faiito un patrimonio immobiliare importante è un ramo di azienda l'immobiliare perché l'Eav nasce dalla fusione di 5 società che hanno una storia antica quindi abbiamo centinaia e centinaia di immobili da gestire e direi ultimo ma forse oggi più importante è il soggetto attuatore per conto della regione Campania degli investimenti infrastrutturali e mi fa molto piacere poter dire anche in questo momento sulla linea 10 per il comune di Napoli perché siamo il soggetto attuatore della linea 10 questo vuol dire che abbiamo da realizzare investimenti per miliardi e miliardi di euro quindi cantieri gare un'attività complessa Claudia abbiamo da casa una domanda per l'assessore ci chiedono vedo sempre tanti turisti che usano i mezzi per spostarsi in città i nostri trasporti non sono un bel biglietto da visita bisogna intervenire su corse sicurezza e pulizia sì beh è certamente giusto stiamo lavorando stiamo lavorando per questo sulla metropolitana incrementeremo man mano le corse sui bus cerchiamo di ottimizzare l'alibus è un sistema che funziona molto utilizzato abbastanza economico siamo anche in grado di incrementare le corse quando c'è un'esigenza maggiore col personale che abbiamo cerchiamo di ottimizzare anche giorno per giorno le attività secondo lei c'è bisogno anche di aumentare il numero dei mezzi in strada e se sì avete in cantiere la messa in esercizio di nuovi autobus chiaramente anche più all'avanguardia rispetto ai vecchi sì in realtà abbiamo avuto dal PNRR risorse molto importanti per 275 bus elettrici i primi 67 nel 2024 e finanziamenti adeguati anche per l'adeguamento dei depositi perché chiaramente bisogna attrezzare i depositi di ANM per avere i bus elettrici quindi avremo un più 275 che è un numero molto importante meno quelli più diciamo inquinanti quindi elimineremo con l'ingresso di 275 elimineremo un numero inferiore di bus quindi la flotta si incrementerà diventerà più sostenibile perciò abbiamo assunti stiamo assumendo 275 autisti ma abbiamo una graduatoria di oltre 500 quindi insomma volendo fare una previsione all'ESA che i giornalisti sono sempre listati sui tempi ci dica quando potremmo dire almeno ipoteticamente il servizio migliorerà allora i nuovi 67 bus elettrici diciamo del 2024 sono una certezza quindi certamente questo del 2024 ci saranno molte cose nuove quindi diciamo certamente possiamo definire l'anno della svolta per quanto riguarda i trasporti almeno su gomma sì diciamo su ferro già il 2023 sarà un buon anno perché incrementeremo molto l'efficienza di linea 1 nel 2024 è un anno importante perché attiveremo linea 6 che è anche un'altra cosa molto rilevante avremo i primi 67 bus elettrici quindi un'altra cosa molto rilevante dobbiamo puntare a un trasporto ecosostenibile se tutto va bene a fine marzo 2024 riapriamo anche la funicolare di Chiaia quindi diciamo il 2023 è un anno di miglioramento diciamo soprattutto di linea 1 ma linea 1 è il perno di tutta la circolazione e allora a proposito di linea 1 vediamo queste altre interviste realizzate sempre da Claudia proprio sulla linea 1 della metropolità io veramente la prendo spesso non ne trovo troppi problemi non so ci mancano da un poco però per me va bene è gestita male nel senso che non ci sono controlli dopo una certa ora io ho paura di prenderla e quindi tendo a prendere i mezzi su strada che inquinano e fanno traffico vengo da Milano è efficiente veramente efficiente qua non passa quasi mai quindi si accumulano sempre tantissime persone e alla fine ci ritroviamo sempre tutti quanti ammassati come le capre e non arriviamo mai puntuali a nessun appuntamento in primissima scuola arrivo sempre in ritardo si ferma in continuazione scendiamo per andare a lavorare invece la troviamo chiusa così all'improvviso senza spiegazione uno poi si organizza la giornata in modo tale da programmare gli spostamenti con la metro però improvvisamente abbiamo questa sorpresa che non c'è è chiusa e ci spiazza molto ha riscontrato lunghi attese? no nella normalità insomma stamattina abbiamo preso la metropolitana alla stazione centrale assolutamente Assessore anche i nostri intervistati insomma sono un po' divisi per qualcuno il servizio efficiente il signore da Milano ha detto che insomma ha trovato un servizio efficiente se lo dice un milanese evidentemente è stata una giornata fortunatissima perché forse la cosa più importante da sottolineare è che queste interruzioni a sorpresa della metropolitana è su questo che dovete lavorare è possibile che accadano così frequentemente? sì allora va spiegata questa cosa noi abbiamo un parco treni molto antiquato hanno oltre un milione e mezzo di chilometri riusciamo a far cicolare sei di questi treni vecchi abbiamo messo già in campo il primo nuovo che è anche molto più grande poi anche il secondo i sei vecchi come un'automobile ha fatto un milione e mezzo di chilometri sono poco affidabili quindi non sicuri quindi quando il numero di treni scende sotto un certa soglia noi dobbiamo ridurre la tratta da Piscinola a Dante e quindi non va fino a Piazza Garibaldi perché? perché da Piscinola a Dante e comunque copre il Policlinico Romero Alto eccetera eccetera prima di Dante c'è Cavour a Cavour c'è l'intescambio con linea 2 quella lì delle ferrovie dello Stato quindi in realtà chi a Piazza Garibaldi trova la linea 1 chiusa di fronte proprio di fronte a 10 metri scende in linea 2 prende la linea 2 e a Piazza Cavour con l'intescambio col tunnel va sulla linea 1 quindi noi dobbiamo ridurre se non facessimo così con pochi treni l'attesa sarebbe talmente tanto grande che non sarebbe più sicura la stazione quindi quando all'improvviso vuol dire che qualche treno vecchio ha avuto un problema e dobbiamo ridurre quella tratta qual è l'obiettivo di rapidità nel passaggio del treno che si pone la giunta Manfredi? noi siamo scesi già con un solo treno nuovo siamo scesi da 14 minuti di attesa a 12 12 e mezzo quindi questo è col nuovo treno scendiamo ulteriore secondo treno scendiamo a 10.5 l'attesa media è la metà di questo numero quindi quando introdurremo il secondo treno fra pochissimi giorni l'attesa media sarà 5 minuti e abbiamo avuto l'ok per fare il collaudo di due treni in contemporanea quindi diciamo che con ulteriori altri due treni quindi 4 nuovi 4 nuovi equivalgono ai 6 vecchi come capienza perché i treni sono più grandi 1250 mentre quelli attuali sono da 800 quindi entro fine estate avremo non un treno nuovo come oggi 4 treni nuovi il raddoppio della capacità scendiamo a 8 minuti e mezzo dobbiamo sperare che non si fermi nel frattempo qualche treno vecchio altrimenti possiamo sempre i treni vecchi esatto però i treni vecchi è un miracolo di ANM far circolare un treno cioè di notte c'è un lavoro per farli circolare la mattina che non si ha un'idea io devo sempre ringraziare tutte le famiglie di lavoratori che fanno andare avanti questi treni così vecchi è ovvio che poi arrivati a un certo punto di treni nuovi inizieremo a eliminare i vecchi treni ma i vecchi treni sono noi prima avevamo 45 unità di trazione ma noi abbiamo 16 cioè non si è mai fatto una politica di investimento sui vecchi treni cioè rispetto a quando si è inaugurata la metropolitana linea 1 prima erano 45 unità di trazione buone circolano 15-16 perché si è fatto una politica di investimento sulle opere dobbiamo soltanto cercare di accelerare un pochino di più perché insomma veramente la metropolitana linea 1 è fondamentale per la viabilità della città considerando anche i tanti cantieri che ci sono in città è un'alternativa noi se riusciamo nel piano scendiamo a una distanza di 6-7 minuti entro fine 2023 questo è il piano che l'attesa è la metà di questo mi sembra un buon obiettivo poi fatemi dire un'altra cosa a Milano il biglietto adesso costa 2,1 euro 2,1 a Napoli la metà e il signor milanese ha detto che funziona efficiente evidentemente ha capito poi la critica maggiore mi è piaciuto anche il fatto spero che non abbia detto perché spesso è in ritardo non lo so però il giudizio del signor milanese mi fa pensare che forse 1,20 euro diciamo evidentemente appunto ha fatto anche la riflessione sul costo dice magari aspetterò qualche minuto in più ma pago la metà posso dire una cosa e poi c'è una domanda così diamo anche qualche dato positivo perché poi non è così tutto tragico sulla gomma ma anche i telespettatori conoscono qualcosa sulla gomma io credo che già c'è stata una rivoluzione perché noi abbiamo che il parco gomma non dell'EAV e dell'ANM ma di tutte le diciamo le società che fanno TPL in Campania noi quando camminiamo vediamo che i pullman prevalentemente sono ormai nuovi non sono quei catorci che giravano vent'anni fa infatti il dato statistico che ha dato una società che fa ricerca dice che mediamente l'età oggi di un pullman che circola in Campania è 8 anni lo sa quant'era 6 anni fa? 18 anni quindi siamo passati da un'età media di pullman 18 anni a 8 anni questo grazie a mille pullman che la regione Campania ha messo in circolazione e questa è una cosa positiva da casa a Claudio e poi vediamo un servizio proprio sulla NM su gomma Presidente De Gregorio una telespettatrice una mamma riprende un tema posto dalle interviste che abbiamo visto infatti ci scrive la circonvesuviana nelle ore serali e in alcune tratte in particolare necessita di maggiore sicurezza per i pendolari finché mia figlia non torna a casa io non sono tranquilla è un tema è un tema molto serio è un tema che noi purtroppo non riusciamo a gestire da soli perché il territorio è molto complicato succede nelle stazioni e nei treni della visuviana quello che purtroppo succede negli ospedali ai pronti soccorso nelle scuole che le mamme prendono a schiaffi le professoresse cioè c'è un tema di ordine pubblico io credo che questo tema noi lo affrontiamo con le risorse che abbiamo ma non abbiamo la possibilità di mettere i controllori su tutti i treni noi i treni parliamo di oggi di 65 treni che circolano sulle linee della visuviana più gli altri parliamo di 120 treni che circolano mediamente sulle nostre linee avere i controllori su tutte le linee la videosorveglianza la videosorveglianza la videosorveglianza già c'è anzi c'è anche un'altra cosa che viene poco utilizzata e io sono sempre molto rispiaciuto di questo c'è una app che si chiama SAM che può essere scaricata dal telefonino che consente a chi viaggia sui nostri treni di premere un tastino e trasformare il proprio telefonino in una videocamera che è collegata in tempo reale con la nostra centrale di sicurezza ma questa è solo una cosa bisogna dare informazioni anche su questo la stiamo dando da tre anni la stiamo dando da tre anni sa che succede quando c'è un problema anziché premere sull'app i nostri utenti il più delle volte fanno un video su Facebook no insomma perché il tema che poneva la telespettatrice è un tema reale è un tema che preoccupa anche me perché ovviamente potete bene immaginare che anche noi siamo coinvolti in questo aspetto però credo che c'è bisogno dell'EA che faccia di più ma c'è bisogno che però lo Stato si renda conto che i temi di ordine pubblico non sono un problema dell'impresa ferroviaria ma sono un problema come dire di sicurezza e c'è bisogno anche del coinvolgimento dei cittadini che devono sfruttare quello che noi mettiamo allora devono scaricare come fanno vanno sul si chiama SAM è semplicissimo si scarica c'è la geolocalizzazione la parola è complicata in tempo reale e trasforma il telefonino in una videocamera uno fa così e vede se qualcosa non funziona pure se ti fregano il telefonino sei già geolocalizzato c'è un intervento in tempo diciamo reale ci vorranno quei minuti che sono necessari è un grande strumento poco utilizzato io sono sempre molto dispiaciuto di queste cose effettivamente è uno strumento io non ne sapevo l'esistenza confesso la mia ignoranza vediamo quest'altro contributo e interviste realizzate sempre dalla nostra Claudia io che abito ai Colliaminei è una zona proprio non servita bene a volte ha spento il 204 anche un'ora tutti i giorni è una corsa quindi c'è un disservizio incredibile arriviamo qui l'attesa non ci sono orari l'attesa non lo sappiamo in realtà se passa bene se non passa dobbiamo correre scendiamo in metropolitana è la stessa cosa perché a volte c'è il display ma non c'è l'orario quindi è veramente inutile diciamo che tu arrivi qui li aspetti non hanno orari è molto è tutto molto catuale dipende molto dal traffico dagli orari dalle capienze perché molto spesso sono anche pieni quindi sono pochi Allora Assessore Cosenza mi pare che forse la criticità maggiore è proprio il trasporto su gomma a Napoli è chiaro che c'è anche un problema di traffico perché ci sono tanti cantieri in città e questo chiaramente rende la situazione più complicata però i cantieri ci sono per migliorare per far crescere questa città e farla diventare veramente una città importante a livello europeo visto anche i tanti turisti che accoglie sì diciamo i bus in circolazione dieci anni fa erano il doppio di adesso e attualmente gli autisti sono tutti interinali come dicevo prima quindi già diciamo iniziare a assumere gli autisti è già un fatto di minimo di civiltà con l'incremento della frotta di cui dicevo prima ci saranno anche più bus col miglioramento della metropolitana ci saranno meno macchine che circoleranno quindi la matassa si sbroglia dal vero sistema rapido di massa che è la metropolitana cioè miglioramento del traffico di bus ma anche pedonalizzazioni anche ZT le possono venire man mano che migliora il sistema delle metropolitane però noi tutti i pullman nuovi avremo autisti quindi gradualmente con i nuovi bus avremo più mezzi con meno traffico avremo più più precisione diciamo poi i cantieri che oggi abbiamo a Napoli sono cantieri transitori anche se io conto di aprire molti cantieri ogni anno perché le strade pure sono però chiudiamoli pure assolutamente chiudiamoli e li riapriamo perché altrimenti cantieri su cantieri perché insomma noi veniamo da da cantieri che insomma sono stati 10 e 20 anni assolutamente sì la gran parte dei cantieri che ci sono oggi a Napoli sono 15 diciamo vengono chiusi il 30 aprile quindi diciamo il 30 aprile io ne ho altri che non faccio aprire apposta per esempio via Legusto non posso insomma diventerebbe veramente un'altra gara via Legusto è anche vicino allo stadio eccetera via Parteno vediamo aspettare il giro d'Italia ci sono 3-4 cantieri fermi per motivi di opportunità diciamo però questo è un altro tema qualcosa i napoletani giustamente come me si lamentano che le strade disse estate ma io per aggiustare le strade ho avuto i cantieri quindi voglio dire però come diceva lei li chiudiamo esatto li apriamo li chiudiamo e li riapriamo e riapriamo di nuovo eliminiamo il cantiere di piazza municipio che è diventato una specie di simbolo diciamo entro giugno ci sarà una grande inaugurazione anche del sottopasso che è una cosa spettacolare ecco questo ci fa piacere in collegamento da Milano la collega della Sole 24 Ore a Narita D'Ambrosio buonasera Narita buonasera a voi e grazie per l'invito perché il tema dei trasporti è un tema che mi è particolarmente caro io vengo a Napoli con una certa frequenza e quindi mi è molto caro allora una domanda ancora da casa e poi una domanda da te a Narita per i nostri ospiti Presidente De Gregorio ci ha scritto un telespettatore un treno ogni 20 minuti quando non ci sono ritardi questo non è un servizio efficiente e in linea con una metropoli terza città d'Italia noi parliamo di una ferrovia qui non di una metropolitana parliamo di una ferrovia concepita 130 anni fa allora facciamo un attimo appunto noi dobbiamo decidere se vogliamo avere le strade tutte distessate o se le vogliamo mettere a posto ha detto appena l'assessore Cosenza io vi dico la stessa cosa noi abbiamo in questo momento un progetto di rifare tutta la infrastruttura della linea vesuviana per un investimento di 320 milioni si è chiusa ieri una gara per i treni oltre 40 già in costruzione da Stadler di altri 60 treni con due partecipanti due multinazionali quindi noi abbiamo la prospettiva di avere 100 treni nuovi fra X anni però comunque oggi abbiamo la prospettiva certa è l'Ix che ci spaventa purtroppo la storia della metropolitana ci insegna che da quando io lo penso di avere un treno e quando il treno circola passano se sei bravo 7-8 anni è un dato statistico noi i miracoli non li sappiamo fare ma abbiamo potuto però fare una cosa importantissima programmare e avere un'idea di quello che sarà il futuro della vesuviana ma i treni nuovi già li abbiamo sulla Cumana già li abbiamo sulla Piedimonte 5 treni STA delle nuovissime inaugurati pochi giorni fa già li abbiamo sulla linea di Benevento oggi chiusa ma con tutti i treni già nuovi chiusa perché è in corso il completo rifacimento del segnalamento ferroviario e dell'infrastruttura allora noi abbiamo una prospettiva molto interessante ma purtroppo avremo ancora anni complicati perché dobbiamo convivere con i lavori in corso c'è poco da fare Annelita allora innanzitutto avete parlato di Milano ho sentito posso confermare che il servizio a Milano è scaduto in qualità e che è un servizio molto caro posso conservare posso confermare che la metropolitana di Milano è oggettivamente brutta è vecchia la metropolitana di Napoli è un gioiello e quindi venendo a quello che diceva l'assessore è che il turista è capitato proprio a me che arriva a Garibaldi e all'improvviso trova chiusa la sala cinesca innanzitutto non c'è un'informazione tale sul posto che gli indichi di prendere l'altra metropolitana ai cui tempi poi comunque non è che siano poi molto rapidi ma soprattutto lui vuole prendere la metropolitana perché ne ha sentito parlare cioè secondo me Napoli ha anche questa tra virgolette problematica che la metropolitana è come se fosse un museo quindi comunque il turista è invogliato a prenderlo e questa è la prima domanda ma la domanda che voglio porre a entrambi i tuoi ospiti Fabiola è provocatoria quanto entrambi quindi la domanda è per entrambi utilizzano uno la circonvestuviana e uno il trasporto pubblico perché secondo me è dall'utilizzo del trasporto pubblico che poi discende la consapevolezza delle problematiche è provocatoria lo dico assolutamente vero però insomma se uno non è dentro la materia non riesce a capirla la simpaticissima ci siamo già incrociati un'altra volta cade male perché io non ho la macchina quindi uso solo il trasporto pubblico quindi voglio dire sono un utente che usa solo il trasporto pubblico molto vado a piedi qualche volta ovviamente e anche i tassi io diciamo quando i cittadini i turisti trovano chiuso l'ho spiegato perché è una necessità perché altrimenti non è più sicura cioè se ho lasciassi aperto si crebbe una fila in banchina pericolosa quindi non c'è alternativa poi sono d'accordissimo sul fatto che la segnalazione è scadente che nessuno lo sa così come sto davvero arrabbiato perché noi non pubblicizziamo a sufficienza il tap and go cioè vedo file per fare i biglietti quando invece è là si sfiora con la carta di credito col Bancomat e si passa e non riusciamo a comunicare c'è un problema di comunicazione molto grande perché è assurdo avere a Piazza Caribatti la fila per il biglietto quando non serve il biglietto perché non credo che esista un turista o un italiano che non ha carta di credito o Bancomat questo dobbiamo fare uno sforzo comune abbiamo un bellissimo consorzio unico che ci unisce tutti ma è un sistema ma dovete molto lavorare sulla comunicazione anche voi come amministrazione comunale ma oggi è difficile lavorare sulla comunicazione perché tutti sono velocissimi vedono Facebook però insomma i social aiutano magari potete fare un lavoro anche di questo tipo però io quante volte l'ho detto che c'è il Tapping Go diciamo io non faccio mai il biglietto ci sono anche le app non solo Tapping Go ma anche la app con la quale puoi pagare il biglietto con la carta di credito col telefonino con la carta di ricarica assolutamente sì ci sono le app ma io capisco che come dire uno deve caricare l'app ma sfiorare con la carta di branco matta la carta di credito diventa più semplice e chiaramente si evitano le file chiaramente il presidente De Gregorio non si sottrae la domanda lei gira in circunviso però non mi dispiace ma io non prendo la circunviso per il semplice motivo che abitando a Napoli Centro e lavorando a Napoli Centro non ho bisogno di prendere la circunviso però l'ho presa per esempio domenica per andare a Pompei a Castellammare perché abbiamo inaugurato la funivia del faiito quindi l'ho presa 400 biglietti in un sol giur 700 a fine giornata 700 a fine giornata però la domanda provocatoria che è carina però io rispondo che se si vuole far intendere che non abbiamo consapevolezza dei problemi non è così perché i problemi li conosciamo molto bene li conosciamo e vi assicuro che fare l'amministratore di un'azienda che fa trasporto pubblico dalle nostre parti è un lavoro faticoso dal punto di vista delle energie fisiche ma direi anche dal punto di vista delle energie psicologiche e morali perché si è sottoposto a un bombardamento continuo dove non si riesce a volte a distinguere capisco perché il pendolare io dico ha sempre ragione quindi non è un'accusa di pendolare però non si riesce a distinguere diciamo così il grado di responsabilità cioè c'è una responsabilità che deriva dalla storia c'è una responsabilità che deriva da alcune scelte politiche fatte o programmatiche sbagliate degli anni scorsi e c'è una responsabilità individuale di chi oggi fa delle scelte ma i temi sono complessi quelli del trasporto Anna Rita ti hanno soddisfatto le risposte dei nostri ospiti sì voglio aggiungere che tutta la mia solidarietà perché in effetti è un compito non difficile stra difficile molto molto difficile allora Anna Rita noi ti salutiamo ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro ciao grazie anche a voi e soprattutto ai tuoi ospiti grazie e allora prima di dare spazio alle domande da casa voglio sapere da entrambe una cosa a Pasqua si ripropone il problema di sempre funicolari e metro chiuse il pomeriggio di Pasqua ci possiamo lavorare per evitare questo visto che abbiamo un pienone di turisti senza precedenti Pasquetta certamente Pasqua il giorno di Pasqua Pasqua certamente aperta Pasqua attualmente è il programma che a ora di pranzo chiude ma stiamo trattando con con ci vuole un po' di elasticità anche da parte del sindacato ci vogliono soldi ci vogliono soldi ma insomma bisogna intervenire perché è assurdo insomma lasciare noi a Capodanno abbiamo fatto un miracolo che sono neapoletano perché nessuna città d'Italia abbiamo avuto un servizio continuo tutta la notte che è stata molto apprezzata è stato un sacrificio anche di tutti i lavoratori stiamo lavorando su Pasqua non è obiettivamente non è facile perché poi l'utente lasciamo uno speraglio insomma di apertura? ma senza ottimismo nella vita non si combina nulla e allora sull'ottimismo di Cosenza vediamo l'ottimismo del Presidente Gregorio da noi è un po' più complicata nel senso che noi abbiamo raggiunto un accordo con tutte le organizzazioni sindacali tranne Orsa e USB e vorremmo quindi tenere aperta abbiamo messo sul piatto dei soldi quello che potevamo fare 155 euro per restare aperti il pomeriggio di Pasqua perché poi la mattina è aperta e il Pasquetta è aperta però c'è una protesta in atto in questo momento da parte di alcuni lavoratori che rifiutano con lo straordinario ma ovviamente rifiutare lo straordinario è un diritto del lavoratore ma c'è una protesta cioè non è un rifiuto dello straordinario che oggi sto stanco oggi non ho voglia oppure non ho più voglia di farlo no io lo voglio fare ma in questo momento rifiuto lo straordinario c'è una trattativa da parte di alcuni allora se rientra la protesta si regolarizza il servizio noi faremo questa operazione cioè saremo aperti ovviamente se c'è una protesta e già delle problematiche averte tenere aperta poi il pomeriggio durante la protesta diventa complica allora diamo spazio alle domande da casa i nostri ospiti risponderanno brevemente vai Claudia Assessore un docente della Federico II ci scrive salve sono un docente dell'università e per raggiungere la sede via Mezzocannone usavo la metro ma per i continui guasti degli ultimi tempi sono stato costretta ad utilizzare mezzi privati perché altrimenti i miei alunni sarebbero rimasti senza professore con il dovuto rispetto trovo ciò inaccettabile sì vabbè saluto il collega perché anch'io sono un docente della Federico II ma non mi sembra così sistematico la stazione università è stata chiusa molti mesi perché aveva degli storici problemi di infiltrazione d'acqua è stata riaperta immagino che lui venga con linea 1 ma non sono sicuro perché poi Montesanto non è molto lontano diciamo da Mezzocannone però questa sistematicità tale da non usarla francamente io non è che la un po' troppo severo il professore no ma tra l'altro non saprei dove parcheggia il collega quindi diciamo poi quanto gli costa il parcheggio così come lui anche io ho una posta elettronica molto semplice mi può scrivere direttamente così ci chiariamo allora il nostro telespettatore può scrivere all'assessore Claudio Presidente quindi ci chiedono diciamo un po' più di chiarezza per quanto riguarda il giorno di Pasqua ci saranno variazioni degli orari io e la mia famiglia pensavamo di andare a Sorrento e vorremmo evitare il traffico e questa è una cosa positiva lo chiedono a me io dico che fanno bene a evitare il traffico perché sennò non tornano qui devono cambiare meta no 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 in questo momento c'è ancora la previsione di restare aperti il giorno di Pasqua anche il pomeriggio ripeto se ci sarà una posizione equilibrata da tutte le parti cosa che io mi auguro perché stiamo lavorando per questa prospettiva credo che saremo aperti il giorno di Pasqua anche il pomeriggio prima di un'altra domanda da casa le chiedo linea 6 ci siamo? no linea 6 diciamo stiamo facendo un monitoraggio quindi non si vede ma i trenini stanno camminando quando potremmo salire su quei trenini diciamo che io non voglio aprire solo una parte perché serve se c'è tutta cioè da mostra fino al municipio quindi diciamo noi lavoriamo su giugno 2024 tappe intermedie io non credo che siano non abbiano più tanto senso a giugno 2024 saranno anche finite sia le stazioni quella diciamo di Monte di Dio che poi ci hanno discesa anche a via Chiaia che municipio quindi diciamo noi promettiamo per come si può promettere in Italia dove ci sono lavori pubblici diciamo giugno 2024 ma vi garantisco che i treni stanno già circolando ci sono stato la settimana scorsa siamo in fase di monitoraggio e preesercizio Claudia Presidente ci scrivono il Campania Express è un treno di serie A per i turisti e noi pendolari siamo utenti di serie B i treni delle nostre tratte sono terra di nessuno questo è un telespettatore indignato no il Campania Express è una richiesta che ci viene dagli operatori turistici di offrire un servizio più qualificato che costa di più con una hostess a bordo con dei controllori con delle diciamo cose che noi non possiamo permettere sui treni del TPL che per andare a Sorrento costano poco più di 3 euro sapete 3 euro per andare a Sorrento onestamente forse è un prezzo che anche quello dovremmo rivedere Campania Express costa molto costa 15 euro ma lo prende un sacco di gente il che vuol dire che c'è tanta gente che pur di evitare di prendere la macchina chi viene da Roma chi viene da Milano è che sa che per andare in costiera con la macchina rischia di non tornare più col Campania Express vai e torni paghi qualcosa di soldi ma meno di quello che pagheresti 15 euro andate ritorno 15 euro andate ritorno insomma tutto sommato 15 euro andate ritorno considerando l'aumento della benzina è un grande affare è un grande affare dipende da quante persone vanno insomma quindi quel nucleo familiare da quante persone è compuso altrimenti diventa più oneroso diciamo che noi abbiamo questo servizio perché ci viene richiesto un servizio non finanziato da soldi pubblici quindi che si automantiene non abbiamo contributi alla regione non abbiamo contributi a nessuno nel 2022 abbiamo incassato col Campania Express più di quello che incassavamo nel 2019 pre-covid perché evidentemente c'è una domanda in questo senso ovviamente non si tratta di avere pendolari di serie A abbiamo detto che noi dobbiamo accogliere i turisti e dobbiamo dare loro un servizio efficiente perché il turismo significa crescita dei nostri territori quindi ben venga anche questo tipo di treno particolare è chiaro che l'indignazione ci sia però secondo me bisogna offrire anche questo tipo di servizio perché poi il turismo di qualità quello che porta soldi su questo bisogna puntare un'ultima domanda Claudia Sì, una domanda per l'assessore sempre metro linea 1 ci scrivono da casa la fermata del Duomo è un disastro non è dotata di scale mobili ed è davvero faticoso salire tutte quelle rampe di scale a piedi non si poteva pensare almeno di installare un numero maggiore di ascensori? Sì, quella non è la versione finale è una stazione in cui l'influenza degli scavi archeologici e l'architettura generale fa sì che ci vorrà ancora tempo quindi non è la versione finale è stata aperta prima che si concludesse lì c'è c'è un'importantissima opera archeologica diciamo le olimpiadi diciamo non greche che quindi è un lavoro di archeologia molto importante l'alternativa di non aprirla proprio voglio dire ma non è la versione finale della stazione quindi poi ci saranno scale mobili ci saranno ascensori questa è una cosa positiva allora noi salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti l'assessore Cosenza il presidente dell'EAV Umberto De Gregorio che non si sono sottratti a nessuna domanda anche se chiaramente la situazione mi rendo conto è difficile da gestire però è giusto fare chiarezza con i nostri telespettatori ringrazio naturalmente Claudia che ricorda l'indirizzo email cui potete scrivere noi raccogliamo le domande che verranno poi rese note nel corso della trasmissione vi ricordo quindi il numero whatsapp di Televomero 339 4628 565 l'indirizzo email redazione chiocciola televomero.it ci trovate su tutti i canali social facebook, youtube, twitter, instagram potete scaricare la nostra app sui vostri dispositivi mobili e visitare il sito www.televomero.it grazie Claudia ci vediamo la prossima settimana sempre qui a Lenti e Ingrandimento buonasera assessore buonasera presidente e buonasera a tutti voi che ci seguite ci ritroviamo la settimana prossima parleremo di Pasqua parleremo dei tanti turisti che affolleranno la nostra città e la nostra regione parleremo delle ricette tipiche della tradizione pasquale napoletana arrivederci e buona serata grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori